E' avviso prima del lavoro nei gruppi e commissioni. Il nostro confratello Francis Gasparic è ancora in ospedale, ha ricevuto già due unitari di sangue, per esempio dei sogni, e ora abbiamo bisogno di quattro confratelli sani, forti e generosi per donare del sangue domani mattina, prese. Chi è disponibile può parlare con noi dopo, quando finiamo qua la sessione, prima di andare nei gruppi, per domani mattina che si deve andare in ospedale. Chi non ha preso ancora la maglietta del capito, lo può parlare.